Informiamo tutti coloro che hanno già presentato domanda di assegno unico e universale AUU per i figli a carico, domanda che è stata accolta ed è in corso di validità, ossia percepiscono mensilmente l'importo spettante in base al reddito con le maggiorazioni previste in caso di disabilità che per il 2023, esattamente dal 1 marzo, beneficeranno della erogazione del AUU senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell'Isee per poter usufruire dell'importo completo. In caso di mancata presentazione dell'Isee, l'Inps erogherà l'importo minimo previsto.